Erano stati annunciati 5 mesi fa e oggi hanno preso il via. Promessa mantenuta della Regione Marche che ha voluto riqualificare il Cotma di Rosciano, un centro servizi strategico per Fanno, la Valle del Metauro e l'intera regione. Nel dettaglio, 850 mila euro sono destinati al rifacimento della pavimentazione, delle strade di accesso e dei parcheggi, che presenta da anni un profondo dissesto. Oltre all'asfaltatura, sono previsti lavori di riqualificazione esterna della palazzina direzionale per un totale di 500 mila euro. L'intervento, annunciato dall'assessore Baldelli, comprende la rimozione di elementi ammalorati, la tinteggiatura, la revisione dell'impermeabilizzazione della copertura e l'installazione di un nuovo parapetto. Non solo mercato ortoflutticolo, ma centro di riferimento per la protezione civile e per una serie di altri servizi, che ad esempio sono stati fondamentali per la Regione Marche durante l'emergenza pandemica. Questo ha indotto, dopo alcuni nostri sopralluoghi dell'assessorato alle infrastrutture, a una valorizzazione del territorio, del centro, a un aiuto concreto alla protezione civile, che è qui sede in Fano, con 1.350.000 euro di lavori complessivi, che prevedono la valorizzazione di questi 20 ettari. Con il rifacimento degli intoneci, la cui gara sta partendo in questi giorni, del centro direzionale, della palazzina direzionale di 2.200 metri quadrati, ma anche della valorizzazione di tutto lo scoperto di questo centro, che vale, come dicevamo prima, oltre 18 ettari di aree scoperte. Già dal febbraio del 2021, ha ricordato l'assessore Baldelli, ho avviato una serie di sopralluoghi tecnici per verificare le enormi criticità presenti, anche solo per accedere nell'area del Codma, attraverso una strada paragonabile a un'autentica groviera, detto e abbandonata all'incuria totale. In tempi rapidi abbiamo dato una svolta a questa situazione non all'altezza della struttura, che appartiene al patrimonio immobiliare della Regione. Nella riqualificazione abbiamo anche posto una tensione, anche nel smaltimento delle acque meteoriche, con il miglioramento delle pendenze e quindi un maggior deflusso, che è fondamentale anche per una durabilità degli asfalti. Prima alla fine dell'anno arriveremo anche all'appalto degli immobili, non solo della tinteggiatura degli intonaci, ma anche del consolidamento proprio del calcestruzzo, e quindi una riqualificazione di tutta la struttura fondamentale, credo, per la città di Fano. Soddisfatto anche il presidente del Cibi Club Mattei di Fano, Saverio Livi, quando abbiamo aperto la sede qui anni fa, ha ricordato c'era un vero e proprio bosco e l'area era sottutilizzata nonostante le grandi possibilità. Anche perché ci eravamo accorti quando chiedevamo in Regione che qualcuno non sapeva neanche che forse esistesse questo spazio. Piano piano, piano piano abbiamo iniziato da soli a togliere l'erbaccia e poi finalmente abbiamo avuto quella risposta, dopo domande, 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 raccolta di firme anche da chi era qui all'interno del Codma, abbiamo trovato una risposta nell'arco di qualche mese, anzi dirò di più, c'è stata una riunione di presentazione dei lavori a cui io non avevo neanche capito che si riferivano a questi lavori, sono arrivato anche in ritardo, ma lì la sorpresa in cui la Regione, l'assessore Baldelli comunicava che avrebbe fatto un'importante spesa il Codma. Un'area che ha la città, per la città di Fano è molto molto importante.